Ciao a tutti, sono Silvio, corsista del Master organizzato da Com2, proposto da Com2 di manager degli eventi, del turismo e dei beni culturali 4.0 dell'edizione 2020. E devo dire purtroppo che quest'anno abbiamo avuto questo ospite inatteso che sta cercando di metterci i bastoni tra le ruote, ma stiamo rispondendo con forza e con coraggio. E' proprio in base a questo che mi sento di ringraziare fortemente Rosario e tutto lo staff della Com2 per aver risposto così prontamente, per esserci stati vicini e aver risposto all'emergenza nel miglior modo possibile, approntando in poco tempo un'attività didattica online, una piattaforma che ci ha permesso di continuare le lezioni. A proposito di queste, nonostante i problemi relativi all'attività online, volevo ringraziare anche i docenti, perché ci stanno fornendo comunque tutto il supporto possibile e inimmaginabile per poter svolgere un'attività di formazione nel pieno delle nostre potenzialità. E' questo, ringrazio in modo molto forte tutti.